Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità e del piano di riorganizzazione dei pronto soccorso presentato nei giorni scorsi dalla regione che è stato criticato dalle opposizioni che contestano il metodo ribadendo le criticità esistenti. Ascoltiamo il capogruppo regionale del Partito Democratico, Silvio Paolucci. Paolucci, il documento che riguarda il pronto soccorso degli ospedali abruzzesi di riordino per far fronte al suo raffollamento è stato presentato dalla RASR, azienda sanitaria regionale in giunta. Qual è il pensiero dell'opposizione del Partito Democratico in particolare? Intanto che arrivano molto tardi, non è ancora pubblicato e quindi non possiamo ancora conoscere e poter valutare con precisione l'atto di programmazione. Quello che possiamo dire è che noi abbiamo oggi una sanità interrotta. I fatti di cronaca dei vari pronti soccorso di questa regione ci dicono che i cittadini sono stati abbandonati. Gli operatori non hanno conosciuto nuove forze, nuove assunzioni, nuovi investimenti e il risultato vero e reale che tante persone si recano e addirittura restano lì senza assistenza in qualche caso, anche con qualche fatto di cronaca drammatico come il decesso che si è avuto a Pescara e sul quale ci sono delle indagini in corso anche interne per ore e ore e anche giorni. È davvero poca cosa quello che hanno programmato in questa sanità interrotta del dopo Covid, questa giunta regionale, Marsiglio e Laverì. Ci sono due ordini di problemi Paolucci, il primo la carenza di personale cronica che risale a tanti anni fa e poi probabilmente anche una medicina territoriale che non riesce a fare da filtro. Sì, non ci sono atti di programmazione, non c'è la rete ospedaliera, non c'è il piano sanitario, non c'è la rete territoriale che dovrebbe appunto filtrare questi accessi al pronto soccorso, ovviamente dando risposta di assistenza a quelli che possono evitare di andare al pronto soccorso. Dall'altro lato noi abbiamo concluso il commissariamento, hanno fatto grazie a questo lavoro 1200 assunzioni, però il numero degli operatori presso i pronti soccorsi è addirittura diminuito. È una vera e propria vergogna che chiama in causa le responsabilità per l'assenza di delibere, di atti, di provvedimenti e di programmazione questa giunta regionale di centrodestra. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è stato raggiunto questa mattina da un'informazione di garanzia in merito alle indagini sull'incendio della pineta danunziana dello scorso primo agosto. Queste le dichiarazioni del primo cittadino e di tutta evidenza dice che si tratta di un atto dovuto, visto che sono in corso indagini per accertare le dinamiche che hanno generato l'innesco delle fiamme. Il mio dolore di quei momenti per i danni alla nostra pineta è tanto forte quanto il mio impegno quotidiano a contribuire al continuo miglioramento della qualità della vita della nostra città. La mia coscienza è pertanto limpida nella convinzione che niente più di quanto ho fatto poteva essere messo in atto per evitare e contenere un incidente così straordinario e apparentemente causato da fattori che nulla hanno a che vedere con l'azione, il ruolo e la responsabilità di un sindaco. In attesa, conclude Masci, che il procedimento faccia il suo corso per l'accertamento totale pieno della verità, abbiamo immediatamente avviato la macchina organizzativa per dare nuova vita alla pineta. Sono una decina le associazioni che hanno firmato questa mattina un protocollo di intesa con il comune di Chieti per la rieducazione e il reinserimento sociale dei soggetti detenuti. Andrea Costantini. L'obiettivo è mettere in rete tante associazioni che sono funzionali alla inclusione sociale, con specifico riferimento, in questo caso a persone ristrette in carcere per l'esecuzione di una condanna penale. A coordinarla è il comune di Chieti che stamani ha sottoscritto un apposito protocollo con la casa circondariale di Chieti, il garante regionale dei detenuti e le associazioni. È un'opera estremamente meritoria, effettuata qui nel nostro capoluogo, forse una delle poche città che applicano questo accordo. Così come abbiamo sperimentato in questi due anni l'attività lavorativa dei percettori di reddito di cittadinanza, sicuramente troveremo a queste persone del lavoro da fare utile sia per loro che per la società. È una rete che sta costruendo che è Walk in Progress, sarà costruita insieme a altri partner proprio per far sì che alcune persone che hanno pagato la loro pena con lo Stato, con la società, possono essere dignitosamente rinseriti nel lavoro e soprattutto nella società civile. Questo è un grande segno di civiltà e chiaramente ci fa solo onore. Rieducare chi è in carcere e dar loro l'opportunità di reinserirsi nella società non è solo un modus operandi previsto dalla legge, ma è anche il modo migliore per evitare che queste persone tornino a delinquere ricadendo negli errori precedenti. Siamo circa per adesso 10, 30 istituzioni e io spero che andremo a crescere, ne sono completamente a svolta sicuro e il nostro compito è quello di metterci in rete, lavorare in sinergia per poter meglio fare il nostro lavoro e l'oggetto è quello di lavorare sulla persona detenuta sia durante la fase dell'esecuzione della pena, quindi durante la permanenza in carcere, in misura alternativa, articolo 21 o quant'altro e molto anche sulla fase della dimissione, in maniera tale che possa rientrare nella società secondo un vero processo di inclusione sociale che è vantaggioso per tutta la comunità. Come sottolineato dall'assessore comunale alle politiche sociali Mara Maretti, Deus ex macchina dello sviluppo del progetto, questo protocollo destinato a soggetti detenuti sarà un valido test per poter in futuro allargare la rete all'inserimento di persone che hanno altre fragilità. Il bollettino Covid odierno sono 3.110 nuovi casi di positività registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 3.407. 1.377 invece sono i guariti, 252 pazienti più 5 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica e 3 numero invariato rispetto a ieri sono in terapia intensiva, tutti gli altri ovviamente sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni provincia per provincia, l'Aquila 516 casi in più rispetto a ieri, in provincia di Chieti 1.034 casi in più rispetto a ieri, 694 invece in provincia di Pescara, 642 in provincia di Teramo, 81 sono persone che risiedono fuori regione e 143 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dopo la sospensiva del TAR nella vicenda della revoca della concessione a strada dei parchi per la A24 e A25, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio ha incontrato le rappresentanze sindacali dei lavoratori di strada dei parchi e ha avuto un colloquio con il ministro Giovannini. Abbiamo incontrato i sindacati dei lavoratori di strada dei parchi che sono molto preoccupati di questa situazione, noi condividiamo questa preoccupazione, bisogna assolutamente tutelare i livelli occupazionali e anche il livello contrattuale che hanno questi lavoratori ottenuto nei decenni in cui hanno lavorato con la strada dei parchi. Il passaggio ad ANAS ha delle superficialità che devono essere affrontate, intanto perché ANAS non ha lo stesso contratto e non tutto il personale viene garantito, nel decreto c'è anche anzi una nota sibillina che giustamente preoccupa i sindacati perché viene messo appunto un limite, nel limite delle esigenze e delle necessità di ANAS e quindi non tutto il personale sarebbe oggi garantito nel mantenimento del posto di lavoro, preoccupazioni che noi condividiamo pienamente, era uno degli argomenti che abbiamo sempre sollevato al governo facendo presente che questa scelta di andare allo scontro duro con il concessionario avrebbe portato a un contenzioso omicidiale di cui abbiamo già visto l'anticipo con la sentenza del TAR che nel giro di tre giorni ha fatto entrare e uscire dall'autostrada ANAS e strada dei parchi con questi lavoratori a guardare questo balletto di dirigenti e di management che da un giorno all'altro prende possesso degli uffici, entra e se ne va, nel corso di un incontro video con il Ministro Giovannini ho posto al Ministro in persona questo problema trasferendo a lui tutta la preoccupazione del territorio e dei lavoratori, il Ministro continua a garantire che seguirà e che vuole seguire e che sta seguendo con attenzione tutta la vicenda, spero che questo si traduca in garanzie e certezze per i lavoratori, ma soprattutto in garanzie e certezze per tutti gli abruzzesi che hanno diritto di avere un'autostrada sicura, efficiente e a un prezzo congruo. Gli esponenti della Filcams CGL oggi nel corso di una conferenza stampa hanno evidenziato le criticità lavorative che a dire del sindacato ci sono nei punti vendita Eurospin, invitando la proprietà ad avviare un confronto. A fronte dell'assenza e delle mancate risposte di Eurospin e del gruppo Eurospin, che come sappiamo tutti sono cinque società nel nostro territorio, Abruzzo-Molise e c'è Eurospin Lazio, è la società di riferimento. A fronte della loro totale assenza alle nostre richieste, alle nostre richieste di confronto per andare ad affrontare quelle che sono le problematiche dei lavoratori che vivono ogni giorno sui punti vendita, siamo stati costretti a livello nazionale come organizzazioni sindacali unitarie a proclamare lo stato di agitazione con il blocco dei supplementari e dei straordinari di tutte le lavoratrici e lavoratori del gruppo. Questo perché? Perché è chiaro che il nostro intento è portare il gruppo Eurospin a sedersi a un tavolo di trattative per affrontare le problematiche da noi esposte, perché sono davvero condizioni inaccettabili da parte dei lavoratori, con violazione delle norme, dei contratti collettivi nazionali, parlo delle clausole elastiche flessibili, dei livelli di inquadramento di tutti quei lavoratori che svolgono mansioni di concetto e quindi superiori che sono inquadrati come addetti alle vendita, oltre che conciliazioni di tempi di vita, lavoro, famiglia delle lavoratrici madri. Purtroppo Eurospin ignora tutto questo, nonostante è un'azienda che ha un utile di esercizio stratosferico e si pensi che a fronte di un utile di esercizio che supera i 75 milioni di Euro, nonostante loro i punti vendita sono di proprietà, quindi hanno un'immobilizzazione anche del patrimonio immobiliare, nonostante ciò Eurospin non investe sui lavoratori e pensare che Eurospin guadagna sui lavoratori più di quello che il lavoratore guadagna da salario ed Eurospin. Prossimo step, se l'Eurospin continuerà con questa condotta di assenza totale, di mancato recepimento di quelle che sono le richieste di organizzazioni sindacali, è chiaro che si arriverà a una prima giornata di sciopero che verrà comunque comunicata e proclamata a brevissimo a fronte della mancata risposta. Qualora invece Eurospin decidesse di sedersi al tavolo e affrontare effettivamente tutte le numerose problematiche che hanno i lavoratori, è chiaro che andremo a fare una valutazione insieme ai lavoratori stessi e decidere il da farsi. Pescara Energia prosegue la rigenerazione energetica negli istituti scolastici cittadini, i lavori proseguiranno per tutta l'estate. Siamo all'interno del plesso scolastico di via Cavour, proseguono i lavori di Pescara Energia per la riqualificazione energetica delle scuole di Pescara, tutto questo è importante, l'amministrazione comunale, il suo assessorato alla pubblica istruzione credono fortemente in tutto questo e hanno spinto affinché tutto questo potesse accadere. Quest'anno stiamo sistemando sei scuole e due siamo in attesa dell'ok della sovrintendenza per completare anche le altre due. Lo scorso anno abbiamo sistemato otto scuole, quindi stiamo portando avanti un programma assieme a Pescara Energia per la riqualificazione energetica di queste scuole di Pescara che cercheremo di fare su tutte le scuole, quindi siccome noi abbiamo 54 plessi scolastici, pian piano cercheremo di fare l'efficientamento energetico in tutte le scuole. L'amministrazione ha visto lungo e lontano, noi abbiamo programmato questi lavori già precedentemente, certo tenendo conto di quello che sta succedendo in questo periodo, questi lavori avranno un risultato eccezionale sia sotto l'aspetto del risparmio energetico ma anche sotto l'aspetto estetico. L'amministrazione già da un anno e mezzo aveva deciso di intervenire per la riqualificazione energetica che consiste nel rifare il cappotto, nel cambio degli infissi e in alcune scuole di Pescara anche nel miglioramento qualitativo ed energetico dell'illuminazione all'interno degli edifici scolastici. Devo dire che la cosa importante è che l'amministrazione ci aveva visto lungo, ha trovato in noi come Pescara Energia il suo braccio operativo perché consideriamo che tutti questi lavori di efficientamento vengono fatti fondamentalmente a costo zero per i cittadini perché all'interno di Pescara Energia c'è uno staff molto qualificato per cui noi partecipiamo ai bandi che vengono fatti dal GSE che è un braccio del Ministero Economia e Finanza e alla fine diciamo che su tutti i lavori che stiamo facendo ci vengono rimborsati all'incirca dall'80 al 90% delle spese che noi sosteniamo. Credo che sia importante anche per la qualità della vita dei nostri bambini e degli studenti che vanno a scuola trovarsi in un ambiente sicuramente più confortevole e questo naturalmente ci permette anche di poter risparmiare dal punto di vista energetico e offrire una qualità dei servizi sicuramente migliore che credo che sia l'obiettivo che ogni amministrazione ci deve porre per i propri studenti. Andiamo a Teramo adesso preceduta da un convegno alla sala ipogea sarà inaugurata domani all'arca di Teramo la mostra dedicata all'artista Giovanni Mellarangelo che resterà aperta fino a metà novembre in esposizione tele disegni e incisioni che ne ripercorrono le fasi principali della sua attività. Dopo l'esperimento perfettamente riuscito su Guido Montauti sul percorso artistico di Guido Montauti sembrava giusto continuare su quel filone e quindi mettere in campo un'offerta culturale e artistica che ripercorresse la vita di Giovanni Mellarangelo, l'artista e l'uomo che in qualche modo ha accompagnato nel XX secolo la comunità culturale teramana e quindi questa sua personale vuole essere un riconoscimento, un tributo all'attività che ha conosciuto ma anche una riflessione sulla nostra provincia, sul ruolo che ha avuto in ambito artistico e culturale senza chiudersi nel provincialismo ma piuttosto riconoscere quelle che sono state delle eccellenze e quindi mettere in campo una mostra che ha la capacità di saper far dialogare quella che è stata l'opera dell'artista con quelli che sono stati i più importanti autori di quell'epoca e quindi una riflessione su quello che è stato il panorama e quello che è il portato storico-artistico del nostro territorio. Abbiamo in mente un percorso che faccia conoscere l'artista, faccia conoscere quella che è stata la sua attività, quelle che sono le sue opere, quella che è stata la sua scuola di pensiero, la sua scuola artistica e quindi evidentemente metteremo in campo una serie di approfondimenti che ci accompagneranno nei quattro mesi di esposizione, quindi un'innovazione, anche questa non un evento spot di presentazione ma piuttosto un percorso che andremo a realizzare lungo quattro mesi e che in qualche modo dà il senso dello sforzo e del lavoro che viene messo in campo. Nella mostra vediamo i confronti con artisti di una dimensione nazionale, cioè dei grandi centri artisti di Roma, Milano e infatti abbiamo in mostra opere di Cuttuso, di Donghi, di Fausto Pirandello, di Arnoldo Ciarrocchi, artisti a lui coevi che lui guardava e con alcuni di quali si è interfacciato, quindi c'è il confronto con la pittura nel suo tempo, dobbiamo ringraziare i collezionisti privati innanzitutto che custodiscono gelosamente queste opere tramandate ormai da due o tre generazioni e quindi i prestiti dei collezionisti privati, il prestito della Fondazione Tercas e della Pinacoteca Civica, della Biblioteca Delfico, del Convitto Delfico, quindi messo assieme un patrimonio di documentazione artistica figurativa che appartiene alla storia del Novecento di questa città. Torniamo a Pescara adesso dove l'amministrazione comunale ha presentato i lavori realizzati al Rione Rancitelli dal Laboratorio Murap 2022. In coincidenza con la conclusione del Laboratorio di Arte Plastica attivo dal 2 maggio rientrante nel progetto Murap 2022, questa mattina nella scuola elementare di Via Sacco a Pescara sono stati presentati eventi manufatti scultorei realizzati da altrettanti abitanti del quartiere Rancitelli che verranno collocati nel nuovo recinto del Parco della Speranza previsto dal progetto di riqualificazione urbana del quartiere. Vale la pena sottolineare che tra gli autori delle opere in oggetto vi sono persone con fragilità psicofisiche, persone con handicap e due detenuti, questi ultimi autorizzati dall'ente carcerario. L'amministrazione comunale ha investito molto su questo progetto, un progetto che nasce come un progetto di riqualificazione ma è un progetto culturale, è un progetto soprattutto di inclusione. Abbiamo tanto bisogno soprattutto in una parte così difficile della città di Pescara come questa dove ci troviamo adesso, della Villa del Fuoco e comunque della periferia urbana della città, poter portare avanti un progetto di coinvolgimento dei ragazzi, dei detenuti, di tutti coloro che nella zona hanno voluto partecipare a questo progetto, è veramente importante, ci dà molta soddisfazione e ci riconosce un lavoro che stiamo portando avanti con tanta passione e veramente con tanta soddisfazione. Tra i nostri progetti, questo è uno dei più importanti, quello del Murap che tende appunto a valorizzare, riqualificare le periferie attraverso la cultura e attraverso l'arte. Fondazione Aria è una fondazione costituita da imprenditori intellettuali che si sono messi insieme per l'ambiziosissimo compito di migliorare la vita anche attraverso la bellezza. Questo è stato in sinergia con l'architetto Sonsini nell'ambito del progetto, abbiamo individuato dei ragazzi che avevano delle problematiche e pertanto inclusi in questa opera di cultura che va a evidenziare un aspetto culturale e pertanto abbiamo iniziato a interfacciarci con questi ragazzi e una vera integrazione sociale. Su questo dobbiamo puntare nell'ambito della regione Abruzzo e è fondamentale l'intervento degli adulti per far sì che qualsiasi tipo di problematica che si attraversa anche a livello adolescenziale vi sia il recupero di questi ragazzi. Sono sei gli appuntamenti che da domani caratterizzeranno la rassegna Chieti sotto le stelle. Questa mattina la presentazione del cartellone Andrea Costantini. L'estate teatina entra nel vivo e da domani con il concerto di Cipriani e Fazzini scatta la rassegna Chieti sotto le stelle che porterà in città artisti di fama nazionale e internazionale di musica jazz i quali si esibiranno in tre location quali Palazzo Ademaio, Piazza Vico e la Villa Comunale. Sei gli appuntamenti nel calendario fino al 4 di agosto. Abbiamo scelto a mio avviso dei nomi che sono importantissimi da Alexia, Simona Bencini, Nino Buonocore, Bungaro, il maestro Michele Di Toro che porterà Tim Garland, un grande musicista jazz, Gegge Telesforo che tra l'altro viene con una formazione dove è presente un musicista teatino, Michele Santoleri, il batterista, quindi riusciamo a fare anche una consacrazione a quelli che sono i nostri artisti, i nostri talenti e poi ci sarà essi. Apriamo con un duo Fazzini Cipriani sempre molto sofisticato, quindi tutti artisti ricercati che hanno un nome e quindi sì personaggi che però hanno all'attivo in questo momento dei progetti interessanti, acustici o che tendono verso il jazz. La rassegna più importante, più autorevole, spiccano dei nomi veramente di altissimo livello della musica jazz e la musica d'autore, siamo soddisfatti perché siamo alla seconda edizione e siamo sicuri che per l'occasione la nostra città sarà un salotto per veramente apprezzare una musica importante con degli artisti importantissimi, quindi voglio ringraziare la direzione artistica a cura del maestro Michele Di Toro e di Emanuele La Plebe che è sempre vicino veramente in maniera gratuita all'amministrazione e voglio ringraziare anche la fondazione Banco di Napoli qui rappresentata dal Cavaliere Mezzanotte ancora una volta per la sinergia istituzionale messa in campo con l'amministrazione comunale. Siamo adesso alla pagina dello sport, iniziamo dal mercato del Pescara, Romano Floriani, Mussolini è vicino infatti a vestire la maglia del Delfino. Il terzino destro, 19enne della primavera della Lazio, sta per arrivare in prestito dal club Capitolino per andare a rinforzare quel settore di campo. 19 le presenze con la casacca bianco celeste per il figlio di Alessandra Mussolini che ha il contratto con la Lazio fino al 2024 ma potrebbe essere trasferito in Abruzzo per fare esperienza con Colombo. Imminenti anche gli arrivi di Mora e Ghiabà che dovrebbero essere ufficializzati nel fine settimana ed essere a disposizione dell'allenatore. Il centrocampista dell'Atalanta sembra in procinto di trasferirsi in riva all'Adriatico così come l'ex giocatore della SPAL visto che la mediana è il settore più sguarnito dell'organico. Intanto come vedete Clemenza ha salutato con un post Instagram mail a Pescara subito dopo il trasferimento alla Virtus Centella nell'operazione che ha portato Facundo Rescano alla corte di Colombo sperando, ha scritto Clemenza, che le nostre strade si possano di nuovo rincontrare. Grazie di tutto Pescara, mi avete dato veramente tanto. Andiamo in casa terra ma adesso perché il Tribunale di Roma ha sbloccato la Greensport SRL, società che ha acquisito le quote del club Biancorosso. Decisione arrivata in mattinata ma la battaglia legale continua e resta comunque molto complicata. La Greensport Italia SRL, proprietaria delle quote del Teramo Calcio, non è più sotto custodia giudiziaria. La società Veicolo, che ha acquisito la maggioranza del club Biancorosso lo scorso mese di novembre, torna libera. Questa è la decisione del Tribunale di Roma, attesa tra ieri e oggi, che è arrivata in mattinata. Liberata la Greensport ma non la ed il Green, società di Massimo Chierchi, amministratore unico di missionario, ma che resterà in carica, fino all'assemblea che sancirà il suo successore nella gestione di Teramo Calcio. Cosa vuol dire questo che era ritenuto un passaggio atteso da giorni? Tradotto significa che la maggioranza ora può essere eventualmente ceduta con una trattativa tra un nuovo compratore, se ce ne fosse uno, e lo stesso amministratore che può decidere se dismettere o meno del 60%. La questione, che può sembrare secondaria, potrebbe non esserlo. Nel senso che adesso, per acquisire il controllo di Teramo Calcio, bisogna non più passare attraverso il vaglio del Foro Capitolino, ma attraverso gli interlocutori che ne hanno avuto la reggenza in questa stagione sportiva. Cedendo Greensport, che detiene le quote del Teramo, si cede anche il controllo del suo dalizio biancorosso. Nulla cambia però dal punto di vista della battaglia legale in corso e che dovrebbe vedere, ad inizio settimana prossima, la pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI, che tuttavia difficilmente ribalterà la situazione già evidenziata da Coviso che Consiglio federale. A quel punto, anche il primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto, potrebbe scendere in campo in prima persona per assicurare un futuro calcistico al diavolo, anche con un salto indietro di categoria. Anche perché è complicato pensare che lo sblocco possa modificare gli equilibri finanziari del Teramo contestati dalla società di revisione e poi palesati dall'organo di vigilanza delle società professionistiche. Difficile dire cosa cambierà negli equilibri, con Giuseppe Spinelli che nel frattempo ha abbracciato d'Artena l'ex tecnico bianco-rosso a Genoa e Maurizzi. Continuerà ad avere interessi a subentrare anche del Teramo? Ad oggi, ma il condizionale è assolutamente d'obbligo, parrebbe di sì. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma il tempo passa inesorabile, anche se la notizia di questa mattina smuove un pochettino la calma piatta di questi giorni di luglio. Scendiamo in Serie D, adesso semaforo verde in casa vastese per il prossimo torneo. L'incontro in comune tra il primo cittadino Francesco Menna e il presidente aragonese Franco Bolami ha sciolto le riserve dopo la fumata nera nella trattativa con l'imprenditore Attilio Di Stefano. La vastese sarà in astri di partenza nel prossimo campionato di Serie D. Nonostante la trattativa arenata per il passaggio di proprietà con l'imprenditore Attilio Di Stefano. Dopo gli incontri di fine giugno e inizio luglio, la società aragonese sembra aver trovato lo slancio per ricominciare. La notizia è stata confermata dal presidente Biancorso Franco Bolami dopo l'incontro sollecitato dal sindaco Francesco Menna. Incontro positivo dunque in municipio, quello andato in scena ieri sera tra il primo cittadino, l'assessore allo sport Carlo della Penna e i vertici della vastese calcio, lo stesso presidente Franco Bolami e il vicepresidente Luigi Salvatorelli. Una buona notizia per il pubblico dell'Aragona dunque che aveva già iniziato a temere di perdere la quarta serie dopo la fumata nera. Paure che adesso però sembrano solo un lontano ricordo. Sicuramente sì, era già nell'Ali dopo questa chiamata di stamattina del sindaco mi ha onorato e mi ha ricaricato perché si può sbagliare nella vita, però l'importante è rimediare e rimanere sempre come prima, amici di prima, anche perché è vasto per questa società. Ringrazio di voi il presidente Bolami, lo staff, la società vastese calcio, Luigi Salvatorelli, lo scafetta, tutti gli sponsor. Una bellissima notizia per la città, per i tifosi, impegni da prendere naturalmente da parte dell'amministrazione sullo stadio e sul futuro. È comunque una bella compagina, una bella stagione che si riavvia. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Le notizie e i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro sito web www.tv6.it. Io vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.